Ciao a tutti amici di quellichetelefonano.it Io sono Stefano Poggi e insieme alla staff di quellichetelefonano.it vi terrò compagnia durante tutto il Mobile World Congress 2015 di Barcellona per vedere insieme tutte le novità delle varie case produttrici seguitici perché ne vedremo delle belle Ciao a tutti i lettori di quellichetelefonano.it io sono Mauro e assieme a tutto il nostro staff vi terremo aggiornati con tutte le news e aggiornamenti in tempo reale da Barcellona durante tutto il Mobile World Congress Che dire, state connessi con noi Ciao agli amici di quelli che telefonano, io sono Fabio e scriverò per voi Ciao a tutti amici di quellichetelefonano.it abbiamo anche il bastone per fare il blog siamo veramente pronti per Barcellona quindi come sempre seguiteci vi aspettiamo all'interno dei video, vi aspettiamo all'interno dei blog vi aspettiamo all'interno del nostro sito un saluto come sempre dal vostro... eccolo qua words 86 Ciao a tutti gli amici di quellichetelefonano.it io sono Patrick e nei prossimi giorni scriverò per voi articoli riguardanti tutte le news provenienti dal Mobile World Congress di Barcellona logicamente assieme al resto dello staff un saluto a tutti quanti Ciao a tutti cari amici di quelli che telefonano io sono Andrea io sono Arianna e vi terremo compagnia durante il Mobile World Congress insieme a tutti i nostri colleghi blogger di quelli che telefonano io ovviamente seguirò il marchio Sony e io naturalmente Wiko perfetto ciao a tutti e grazie Ciao amici di quelli che telefonano sono Lorenzo il Mobile World Congress si avvicina e volevo comunicarvi che sarò uno degli inviati a Barcellona per assistere a questo grande evento oltretutto sarò presente il primo marzo all'evento di Samsung dove vi terrò aggiornati in tempo reale sulle presentazioni e sulle dichiarazioni da parte di Samsung vi consiglio di seguirci sul nostro sito www.quellichetelefonano.it e sui nostri social network ne vedremo delle belle grazie un saluto adoi amici di quelli che telefonano.it ci siamo stiamo per partire per il Mobile World Congress di Barcellona seguiteci per seguire tutte le notizie sui vari gadget, telefoni e altre news tecnologi ciao da Paolo di quelli che telefonano anch'io sarò presente al Mobile World Congress a Barcellona quest'anno e da lì vi daremo tutte le notizie insieme al nostro staff riguardanti i nuovi telefoni che caratterizzeranno il 2015 a presto, ciao 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 amici di quelli che telefonano.it sono Stefano io insieme al nostro staff per l'evento del Mobile World Congress saremo lieti di tenere i giornati riguardo le maggiori novità sul mondo della telefonia mobile ciao a tutti, io sono Martin e faccio parte dello staff di quelli che telefonano.it ed io come gli altri miei colleghi cercheremo di rendervi partecipi a tutte le notizie che immergeranno al Mobile World Congress di Barcellona che si terrà dal primo marzo per cui cercate di rimanere connessi attraverso il nostro sito quelli che telefonano.it per ricevere appunto tutte le notizie in tempo reale vi saluto e rimanete connessi sul nostro sito quelli che telefonano.it ciao ragazzi ciao